Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di Eneba, un marketplace di giochi il cui link è qui sotto in descrizione nel quale potrete trovare veramente di tutto per qualsiasi console e per tutte le tasche, giochi vecchi e giochi nuovi e con il codice sconto Luca Toselli anch'esso in descrizione avrete poi anche un ulteriore 3% in meno da pagare fateci un salto, ve lo consiglio e lo slogan è comprapoco su Eneba.com Pronti? Partenza e via! È iniziata Juventus a suolo Ma che bello! Ma chi è che l'ha sbagliato? Chi è che l'ha sbagliato? Bonucci? Madonna che gol che ci siamo mangiati dopo un minuto Attenzione Morata in area, Morata ancora Morata, cosa fai Morata? Cosa fai Morata? Era anche in fuorigioco Dai che nostra, McKennie dentro per Morata Morata ma svegliati Morata, svegliati! Svegliati Morata! 3 robe in 3 minuti che abbiamo sbagliato con una sufficienza fuori dal comune Sì esatto, queste cose sbagliate poi ce le ritroviamo a fine partita Questa è davvero la più bella forse Eccolo, la palla di Chiesa, 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 Chiesa La mette! Non c'è nessuno Bravo Rabiot però che ha fatto il taglio Morata, santo Dio! Morata, santo Dio! Rabiot, Rabiot Guarda, eri in fuorigioco eh! Meno male che eri in fuorigioco ma Ma che vergogna! Siamo sempre arrivati lì e abbiamo tirato in porta la bellezza di 0 volte 0 Stiamo anche a crearle giocando male con un lancio lungo Paolo, Paolo, Paolo Sul mancio, Paolo! Questa è la più grande occasione della cerata Ma porca puttana Porca troia Che sfiga di merda incredibile Incredibile Che sfiga di merda la malasorte Dicono che per vincere le partite a pallone bisogna fare gol Ha sbagliato lo stop di bala Poi però la ripresa ancora di bala Di bala, di bala, di bala Di bala in area Di bala, di bala, di bala Numeri Taggo per McKennie McKennie il cross Morata non ci arriva Ma pensa te Ma pensa te Diamo sotto noi andiamo Diamo sotto noi andiamo Ma pensa te Ma pensa te Ma pensa te Ma pensa te Ma dai Ma dai Ma scusami Come fa? Ma dov'è il centrocampista qua? Mi la fate vedere Fatto bene il replay Che non capisco chi si perde fra tesi Rabbio per Dibala Cioè vabbè Rabbio per quadrato Eh Caio Sì lo dicevamo prima Io una ventina di minuti Una mezz'oretta le farei fare Poi Ha maggior ragione adesso Con Morata che non sta beccando neanche un pallone Poi Calcio è strano Magari tra due minuti Morata le fa doppietta Ma Fino adesso veramente è malissimo Sì 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 Perdere stasera È probabilmente la più grande delusione Fino adesso Più Dell'Empoli Più dell'Udinese Ma guardate Morata 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 Ma stiamo scherzando? Oh si scalda Caio finalmente Ormai prendiamo il 2-0 Ormai prendiamo il 2-0 di Raspadone Solo 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 Panita Solo Panita Dov'è un pallone? Sì 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 Spaccato la sedia eh Ma guardate che due interventi che hanno fatto Il miracolo porta vuota e il miracolo è basta Grazie Grazie Caio Giorgio per Morata Grazie mezz'ora di Caio Giorgio No si scaldarà Si scaldarà Si scaldarà Si scaldarà Oh no La rovesciata di Caio Che no Che non entra per un pelo Ma no No facci giocare Abbiamo la palla Direttore C'è gol Questo è gol Questo è gol Questo è gol Si era visto che questo era gol Si era visto che questo era gol Si era visto la grande Ma l'ha presa McKennie L'ha presa McKennie Ah ecco L'ha inquadrato Caio Org Weston McKennie Weston Nel momento più difficile forse della stagione Un giocatore che c'era mancato fino a questo punto Weston McKennie E uno E uno Vabbè ma ragazzi ma intendiamoci un attimo Io se do l'insufficienza a McKennie Non è perché McKennie mi sta sui coglioni Se do l'insufficienza a McKennie È perché McKennie si merita l'insufficienza Se McKennie oggi fa gol Non si becca l'insufficienza Ma non gliene do perché mi sta sul cazzo Oh ma dove siamo? Ma dove siamo? Scusate sono nervoso Che cazzo di cambi allegri 28 attaccanti Bravo Artur 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 Esaltami Esaltami In questo finale di partita Siamo tutti fermi? Non ci stiamo più muovendo Siamo tutti fermi siamo Non era uscita L'abbiamo presa con le mani Ce l'ho visto io da qui Non l'hanno visto loro da lì Metti il cross Per Alessandro Ma non sbagliarmi l'ultimo cross Dal 95esimo Stai a vedere il Sassuolo che vince allo stadium Stai a vedere il Sassuolo che vince allo stadium Ha vinto il Sassuolo allo stadium Ha vinto il Sassuolo sul contropiede Ma va a cagare Ma va a cagare Ma va a cagare Ma vaffanculo Il pallonetto al 95esimo Incredibile questo finale di partita Perché abbiamo sbagliato un cazzo di cross di quadrato Al 94 4 Pensa 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 Assoluta Grazie a tutti.